Buongiorno, parliamo con Gabriele Norcia, un medico della sovrintendenza sanitaria centrale dell'INAIL che era responsabile, era poco fa perché mi pare che è appena finita questo incontro, responsabile scientifico e relatore al seminario INAIL, lo leggo, l'ottica di genere nelle tecnopatie, uno studio delle denunce di malattie muscoloscheletriche nel 2019 ed è infatti lei è intervenuto con una relazione che presentava questo studio. Allora, intanto grazie per la disponibilità di essere qua. Prima cosa che le chiedo però è per far conoscere ai nostri lettori sempre di più la struttura dell'INAIL che cos'è la sovrintendenza sanitaria centrale? L'INAIL è un ente previdenziale a carattere nazionale, ha ambulatori in tutte le province del paese, ambulatori che accolgono gli infortunati, i lavoratori che si ammalano per lavoro e eroga prestazioni di tipo sanitario, sia assicurative, quindi verifica l'esistenza del danno, stabilisce l'entità del danno e eroga la prestazione relativa, sia di cura. E quindi c'è una struttura sanitaria diffusa su tutto il territorio che è diretta, governata da una struttura apicale presso la direzione generale che si chiama sovrintendenza sanitaria centrale. Allora, bene, intanto è utile, le assicuro, conoscere come funziona l'INAIL. Adesso veniamo allo studio che lei ha presentato. Prima di raccontarlo diciamo qualche cosa sul quando sarà pubblicato, se è stato già pubblicato, dove potranno trovarlo i nostri lettori? Allora, si tratta di un lavoro che è in fieri, che sta acquisendo e continua ad acquisire dati e informazioni che vengono integrate continuamente. Già una parte di questo lavoro è stata presentata al congresso nazionale della Simla a Torino qualche settimana fa e lo studio nella sua interezza sarà pubblicato nelle prossime settimane e mesi. Dobbiamo capire, decidere in quale modo e su quale mezzo. Allora, poi veniamo allo studio vero e proprio, continuo a fare un sacco di premesse, ma ho visto che lo studio si occupa dei dati del 2019. Allora, è interessante il 2019 e non penso che sia un anno a caso. No, purtroppo non lo è e non lo è per motivi tristi che conosciamo tutti, perché nel 2020 con la pandemia c'è stato un sovvertimento delle abitudini collettive e i dati sulle malattie professionali, come sugli infortuni, come su qualsiasi altro parametro del Paese sono cambiati profondamente. Quindi il dato 2020 e 2021 non è un dato statisticamente significativo perché su di esso impatta la pandemia. Naturalmente i dati successivi, 22 e 23, sono ancora mobili in fase di stabilizzazione e quindi l'anno con i dati più solidi, più chiari, è il 2019. Allora, veniamo allo studio e approfondiamo i dati anche in ottica di genere, appunto. Avete parlato di disturbi muscoloscheletrici, in particolare, credo, che sono delle tecnopatie e le malattie professionali più diffuse in Italia e che hanno, e questo è interessante, una maggiore incidenza tra le lavoratrici. Allora, cosa dicono i dati? Allora, intanto vorrei fare una minuscola premessa che è questa. L'INAIL è dotato di una struttura ad alta specializzazione che si occupa specificamente di gestione del dato statistico. I medici non fanno questo di lavoro, noi non facciamo questo di lavoro. Tuttavia, disponiamo di una cartella clinica, di uno strumento unico al quale unicamente hanno accesso i medici, e cioè una cartella clinica informatizzata nazionale nella quale vengono registrati tutti i fatti, gli infortuni e le malattie professionali che occorrono ai nostri assicurati. Quindi, diciamo, la ricognizione delle informazioni contenute in questa cartella clinica nazionale per noi è utile per calibrare meglio gli interventi di tutela, cioè per migliorare la nostra capacità di accogliere questi cittadini ammalati o infortunati e di tutelarli, ma anche di prevenzione, magari suggerire interventi perché il fatto dannoso non accade. Fatta questa premessa, le informazioni di cui oggi disponiamo ci dicono che alcune patologie, in particolare, hanno una polarizzazione di genere. Le malattie muscoloscheletriche sono le malattie di gran lunga più denunciate, più riconosciute in Italia, oltre i due terzi di tutte le malattie denunciate, sono malattie muscoloscheletriche. Ma, in particolare, nelle donne sono ancora di più, sono circa i tre quarti. E questo è un dato che ci stimola ad una riflessione, che poi è quello che ha condotto allo studio più analitico. Allora, una riflessione, tra l'altro, le diceva appunto che voi come medici non vi occupate espressamente di dati, ma è interessante che a raccontarli siate voi, perché effettivamente avete un taglio diverso da un taglio, tra virgolette, solamente statistico, in qualche modo. Detto questo, allora, appunto perché il taglio è un taglio diverso, Per esempio, tra questi disturbi muscoloscheletrici ci sono alcuni disturbi particolari, alcune patologie che sono particolarmente legate al genere femminile? Sì, sì, in realtà andare a curiosare in questa grande quantità di informazioni ci ha permesso di estrarre degli spunti interessanti. Abbiamo detto che le malattie muscoloscheletiche sono le più denunciate e le più riconosciute. Nelle donne sembrerebbe ancor di più che negli uomini. Quando però si va a sgranare questo dato macro, questo dato generale, nelle singole patologie prevalentemente denunciate e riconosciute, nei due generi, ci si accorge che c'è una effettiva differenza. Nei maschi prevalgono i disturbi a carico del rachide, quindi soprattutto le discopatie e agli arti inferiori. Nelle femmine prevalgono i disturbi a carico della spalla e soprattutto le patologie del distretto polsomano, che nelle donne sono quattro volte in percentuale rispetto a quelle degli uomini. E tra l'altro mi pare di aver letto alcune anticipazioni di questo studio che raccontano delle differenze enormi tra regioni, tra distretti. Ecco, questo è un altro spunto molto interessante di questo lavoro. La mappatura del rischio sul territorio si può fare con parametri diversi. Cioè questo macro dato che dice poco può essere esplorato con lenti di colore diverso. Allora possiamo, come abbiamo fatto un istante fa, interrogarlo in base al tipo di malattia o al genere, ma possiamo anche interrogarlo in base alla geografia della patologia professionale, cioè alla collocazione geografica della patologia professionale. E questo ci dà delle informazioni interessantissime. È importante farlo utilizzando degli strumenti, diciamo, di studio che relativizzano il dato delle malattie professionali rispetto al numero degli occupati, perché è evidente che nelle regioni, nelle province, nelle città in cui è maggiore il numero delle persone che lavorano sarà più alto il numero assoluto dei fenomeni. Ma questo non ci dice granché. Quello che ci dice tanto è il rapporto tra malattie denunciate e numero di occupati. Per cui può accadere, per esempio, che in regioni meno popolate e meno occupate tuttavia ci sia una frequenza maggiore di denuncia di una data patologia. E applicare questo metodo ci ha consentito, per esempio, di scoprire che le malattie a carico del distretto polsomano in Italia sono molto rappresentate in alcuni specifici distretti. Nelle Marche, per esempio, in Toscana soprattutto, in alcune zone come nel distretto Fermo Macerata a Scolipiceno, nelle Marche, o Lucca, Pontedera, Viareggio, Carrara, in Toscana. E questo dà da riflettere. E mi pare che si è parlato anche delle mansioni che sono più a rischio per questo fenomeno tecnopatico. Infatti, perché da questa riflessione ne scaturiscono immediatamente altre. Perché in queste zone questo tipo di disturbo è più rappresentato in proporzione rispetto al numero degli occupati? Apro parentesi. Nelle donne, ripeto e sottolineo, il tasso di denuncia di questo tipo di disturbo è sempre superiore a quello che si registra nei maschi. Perché in queste province? E allora siamo andati a vedere quali attività produttive fossero maggiormente rappresentate e quale mansione. Le attività produttive sono quelle descritte dalla classificazione Ateco 2007 e sono nei maschi soprattutto le attività correlate alla siderurgia, alla metallurgia e all'edilizia, ma che sono delle attività classicamente interessate da disturbi a carico dell'apparato ostomuscolare. Non ci stupisce questo fenomeno e non è specifico. Quello che invece ci ha colpito è la caratterizzazione nel genere femminile. Nel genere femminile sono responsabili, la maggior parte delle patologie, i settori del calzaturiero e del parrucchiere per signora. Beh, è interessante questo studio legato alle mansioni. Un'altra cosa che però ho rilevato, ho letto con piacere, nel senso che magari sono delle problematiche che lei ha evidenziato e sono molto interessanti, sono relative nella sua relazione, relative intanto a problematiche che incidono poi nel fenomeno tecnopatico. Intanto l'invecchiamento, che sappiamo essere un problema in tutta Europa, diciamo in tutta Europa perlomeno, ma in Italia in particolare, e anche il fatto che le denunce vengono fatte a volte poco prima di andare in pensione, molto tardivamente. Come mai? Allora, anche questo è un aspetto molto interessante che ci viene dall'osservazione, dal nostro punto di vista, di medici operanti sui territori. Abbiamo notato che negli anni la fascia di denuncianti 40-60, tra i 40 e i 60 anni, andava lentamente riducendosi, a vantaggio invece della fascia over 60 anni. Quindi ancora prevale di gran lunga la fascia 40-60 anni, come è normale che sia, essendo la fascia nella quale si concentra la massima numerosità della popolazione lavorativa. Tuttavia, il gradiente, la distanza tra le due fasce, si sta riducendo. Gli over 60 aumentano, i 40-60 diminuiscono. E questo si può spiegare in due modi. Ne ha in parte accennato lei. Naturalmente c'è un invecchiamento generale della popolazione in Italia, è un invecchiamento generale della popolazione lavorativa. Questo primo punto è molto importante per un istituto come il nostro, che si occupa di infortuni e malattie professionali e oltre che di tutela di prevenzione. La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro non possono non tener conto del fatto che la popolazione generale lavorativa invecchia. E quindi bisogna immaginare un lavoratore medio più grande con problemi di salute diversi da quelli che aveva magari un lavoratore 50 anni fa. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda la tutela, perché tutelare un danno alla salute in un lavoratore di età avanzata è un problema tecnico non indifferente, è un problema tecnico in ordine al nesso di causa. Cioè è difficile capire cosa derivi da un'usura fisiologica e cosa derivi invece da una specifica attività lavorativa, benché sappiamo che la nostra attività di tutela è privilegiata. Tutela privilegiata vuol dire che rispetto al tutelato, al lavoratore, c'è un'attenzione specifica e maggiore del legislatore. Quindi si tutela anche l'aspetto concausale. Anche se il lavoro è solo un fattore concausale, il danno è tutelato. Ma un altro aspetto, è quello a cui accennava lei, è che questo dato si può spiegare con il fatto che non solo il lavoratore medio è più anziano, ma tende a denunciare la malattia in tarda età. Cioè quando è alla soglia della pensione o addirittura dopo. Questo perché il diritto in realtà non si prescrive se non con un criterio molto aperto. E quindi ci interroghiamo sul perché. Perché i lavoratori denunciano solo tardivamente o dopo la pensione? Le risposte sono tante. Molto probabilmente perché oggi ancora denunciare una malattia professionale al lavoratore non sempre conviene perché lo esclude. Può rischiare di escluderlo dal mondo del lavoro. Basti pensare a quanto impatti sulla capacità lavorativa, sulla mansione specifica. Per esempio una sindrome del tunnel carpale in una lavoratrice del calzaturiero che deve operare con le mani e che invece se soffre di sindrome del tunnel carpale non può farlo e che viene tutelata dall'assicurazione pubblica purtroppo con indennizi molto ridotti che non compensano la perdita di capacità lavorativa. Quindi è normale o basti pensare al muratore che ha un problema alla spalla o all'ernia del disco che è chiaramente impossibile da svolgere la sua mansione di muratore. Quindi è normale che il lavoratore medio tenda a evidenziare il problema quando è sulla soglia dell'età pensionabile. Allora, altri aspetti critici, altre criticità che lei ha evidenziato nella sua relazione sono intanto la sottodenuncia, le sottodenunce, cioè il fatto che probabilmente spesso questi fenomeni non vengono denunciati neanche dopo la pensione. Un altro aspetto importante che lei indica come un fenomeno di disomogeneità della denuncia nei territori. Cosa può dirci su questi due aspetti? Per il sistema italiano la denuncia è un atto volontario quindi necessita una attivazione dell'avente diritto che spesso però si tratta di un lavoratore con pochi strumenti autonomi e che quindi deve avvantaggiarsi del contesto socio-economico culturale del territorio nel quale vive. Laddove questo contesto è presente vivo e attivo c'è verso che la malattia professionale venga intercettata dagli operatori adibiti e venga denunciata e quindi pervenga alla nostra attenzione. Laddove però questa cultura nel mondo del lavoro questa tendenza questo tessuto substrato socio-economico penso ad esempio alla capillare presenza degli enti di patronato o alla sensibilità dei medici di medicina generale o dei medici competenti consulenti dei datori di lavoro o dei servizi delle ASL sul territorio ebbene laddove questa cultura e questa capillarità questa sensibilità capillare non è presente il fenomeno non giunge alla nostra attenzione quello che abbiamo osservato e che osserviamo quotidianamente dal nostro osservatorio è che la stragrande maggioranza delle denunce pervengono all'attenzione dell'istituto per fonte di enti di patronato e quindi sindacati e patronati sul territorio laddove ci sono per esempio molto rappresentati Toscana Emilia Romagna Marche l'Italia centrale invece non vengono da alcuni operatori molto specialistici come i medici competenti che hanno una quota di denuncia ancora molto bassa intorno inferiore al 10% diciamo addirittura tra l'1 e il 10% così come il medico di medicina generale tendenzialmente non denuncia la malattia professionale e questo è naturalmente un punto di caduta di un sistema che come diceva l'indovino Tiresia in Sofocle chi non sa non vede e quindi se Inail non sa cioè non ha la percezione di quello che avviene sul territorio perché non viene fatta la denuncia come il povero Edipo se non vede non sa ecco l'ultima domanda che le farei in parte ha già risposto ma le chiedo come dire una risposta ancora più generale sulla su come a questo punto avendo individuato le criticità le sottodenunce la disomogeneità nel territorio e avendo anche identificato l'incidenza di alcune patologie in modo particolare nel genere femminile cosa si potrebbe fare in Italia su cosa si dovrebbe puntare per cambiare queste cose e non solamente ridurre le malattie professionali ma anche portarle a conoscenza e poter in qualche modo agire poi anche per la prevenzione il fronte al fronte di intervento contribuiscono innumerevoli fattori e innumerevoli soggetti INAIL è impegnato in prima fila su due fondamentali fronti quello della tutela e quello della prevenzione le due gambe non possono agire separatamente perché è di tutta evidenza che la tutela cioè l'individuazione dei fenomeni e la loro e l'erogazione di prestazioni relative definisce qual è la cornice e la prevenzione dovrebbe intervenire su questa cornice per impedire in futuro che il fenomeno avvenga quindi INAIL è impegnato da anni con investimenti mostruosi in queste due direzioni per quanto riguarda il nostro apporto i medici INAIL possono continuare a studiare e a lavorare in ricognizione di queste informazioni che continuamente pervengono sulle nostre attività quotidiane negli ambulatori sulla base di questi spunti è facile poi individuare dei target specifici di intervento una volta che si individua il territorio o ancora più focalmente l'attività produttiva l'azienda il luogo di lavoro che genera il danno si può immediatamente immaginare un intervento diretto prevenzionale informativo di comunicazione di formazione anche di investimento sulla prevenzione primaria secondaria e terziaria rispetto ai lavoratori ma per farlo per evitare di disperdere le energie in un quadro troppo aspecifico è necessario avere queste informazioni così minute proprio per sapere il gruppo specifico omogeneo di lavoratori e lavoratrici sui quali intervenire grazie e buon lavoro all'intera sovrintendenza centrale grazie a voi grazie a voi grazie a voi